Nei giorni scorsi grande vittoria della Lega Nord alla Camera dei Deputati, superposta dell'On. Molteni, cioè quella di stop agli sconti di pena per gli stupratori e per gli omicidi. Visto e considerato che si tratta di un provvedimento di civiltà, come Lega Nord al Senato abbiamo deciso di chiedere immediatamente al Presidente Grasso la calendarizzazione nelle prossime settimane in modo da regalare agli italiani, appunto in quest'ultimo scampo di legislatura questa legge, che se diventerà legge sarà una cosa ottima, questa legge che sarà un atto di civiltà anche per il nostro Paese.